Ciao, Genova, Marcello Gori, Lara Guidetti, San Papier, appena finita questa replica perturbante, direi, di One Beat. Non ve la raccontiamo troppo nel dettaglio, però chiaramente è una performance in cuffia e di danza urbana che cattura. Sono stati applausi a scena aperta. Com'è fare questa cosa in una grande città la domenica? Perché se no c'è anche il concetto della domenica. Chi mi risponde? Allora io, è sorprendente ed è divertentissimo, perché è come fare carnevale un giorno in cui non è carnevale. E dunque le persone si sorprendono, partecipano, Genova è bellissima, quindi ci sono luci scenari che in teatro non troveremo mai. Per cui è un bellissimo gioco e quando gli spettatori ci stanno è veramente fantastico, è proprio divertente. Davvero, ci sono varie categorie di spettatori, che ci siamo noi in cuffia e poi ci sono anche tutti gli spettatori, come direi, che inciampano, si può dire quasi. I cani che mordono i danza fatti. I cani, i bambini che mangiano i gelati, insomma, ci sono tutta una serie anche di scenografie naturali, non male. Marcello, senti una cosa, il titolo è One Beat. Sì, è riferito alla sinfonia che utilizziamo come musica, che è una sinfonia di musica a un beat, quindi diciamo inimmaginabilmente, come dire, arcaica nel suo essere super contemporaneo. È bello che si inizia in modalità, però non lo devo spoilerare, diciamo solo che ci sono altre due repliche, ma il video tanto lo metterò domani. Prossimi appuntamenti? C'è qualcosa da raccontare? Prossimi appuntamenti, la settimana prossima saremo a Milano e sfideremo la Martesana, via Padova e tutto il quartiere, insomma, di Adriano Ponte Nuovo. Ma Bolle in pentola, ma hai detto qualcosa tu? Sì, beh, con One Beat poi andremo nelle Marche, invece, a metà novembre, e abbiamo appena debuttato con il lavoro nuovo a Migdala, che è sempre un lavoro folle come questo, che sarà invece alle fonderie di Reggio Emilia, dalla Fondazione Nazionale della Danza, il 24 di ottobre, ed è un'altra pazzia di queste. Ma è sempre urbana? Assolutamente sì, assolutamente sì, e c'è da muoversi parecchio. Quindi saremo nelle fonderie, in modo di dire? Sì, sì, saremo nelle fonderie, in tutto il quartiere, intorno alle fonderie, chi più ne ha, chi ne metta. Dai, oh ragazzi, complimenti, grazie, la chiudo qui e ci vediamo prossimamente. Ciao! Ciao!